io adoro stare in spiaggia guarda un pesce volante mi domando cosa c'è in fondo all'oceano idea geniale tabs possiamo andare in fondo all'oceano e scoprirlo mi servono zampedanatra e anche un elica zampedanatra elica confermati attivare la stazione di Blippi la Blippi mobile è pronta per l'avventura c'è tutto un altro mondo qui sul fondale è una specie di foresta sottomarina sì esatto questa è una foresta benvenuti dalle miei parti io sono Jerry Jerry la medusa ciao io sono Blippi e lui è tabs siamo qui per vedere cosa c'è nell'oceano c'è molto l'oceano è pieno di sorprese ve le mostrerò stavo andando a trovare degli amici ma posso farvi fare un tour oh ci sto grazie Jerry prima fermata la foresta di alghe queste alghe possono crescere fino a 45 metri sono davvero alte oh sì ma a volte la corrente dell'acqua trascina le alghe con sé allarme alghe allarme alghe oh no questo non succede mai idea geniale tabs usiamo le pale della nostra elica oh cielo per fortuna è risolto ora andiamo avanti oh quel pesce è blu e ha un naso molto lungo è un marlin blu usa il suo naso per trovare e catturare il cibo è anche molto veloce gira tutto gira tutto gira tutto oh no anche questo non succede mai sì tabs è veramente buio qui ma dove siamo Jerry Jerry Blippi si è finito lì dentro oh no aspetta ho spaventato la balena grigia e lei vi ha soffiato dal suo sfiatatoio questo non succede mai grazie per averci fatto uscire da lì Jerry oh sei tutto luminoso te l'avevo detto che l'oceano è pieno di sorprese ricordi ehi guarda sono i tuoi amici ciao ragazzi mi avete trovato e io ho trovato la risposta alla mia domanda cosa c'è in fondo all'oceano ci sono foreste di alghe marlin blu balene enormi e meduse che si illuminano carica la risposta tabs e siamo solo alla prima avventura nella seconda ci saranno un polpo e uno squalo e una tartaruga marina e un tonno ciao Jerry e ci saranno una lontra e un cavalluccio marino ahahhhhhh Grazie a tutti.